E ormai è assodato e scontato dire che la prevenzione in tutti i campi, soprattutto nell'ambito della protezione civile, è il modo migliore se non per prevenire e per mitigare gli effetti di eventi naturali. Terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali sono purtroppo in un territorio fragile come quello italiano una realtà con la quale fare i conti. Per questo motivo da cinque anni la protezione civile, nata con il terremoto dell'80, che trovò impreparato il nostro paese nell'affrontare il disastro, organizza una settimana di sensibilizzazione e informazione. Per la nuova edizione la Regione Campania ha previsto sei open day già iniziati il 9 ottobre, andranno avanti fino a domenica prossima. Una giornata ha avuto luogo apertosa, presente anche il direttore generale della protezione civile regionale Italo Giulivo. La Regione Campania ha un sistema di protezione civile efficiente, cerchiamo di diffondere consapevolezza dei rischi e cultura di protezione civile e per questo che andiamo sui territori a far vedere il nostro sistema nelle sue varie componenti, che è un sistema che entra subito in campo quando ci sono delle emergenze. Un sistema molto basato sui volontari di protezione civile che sono sempre disponibili, preparati e performanti. Gli studenti del Vallo di Diano hanno assistito ad una serie di esercitazioni. In piazza qui a Pertosa abbiamo simulato l'allestimento di un campo di accoglienza per sfollati in caso di un terremoto. Insieme ai Vigili del Fuoco sono state fatte delle attività di ricerca e soccorso sotto le macerie e trasferimento in teleferica tramite il soccorso alpile. Poi un'attività dimostrativa con le unità cinofile delle nostre associazioni per capire come vengono addistrati i cani da ricerca. Contemporaneamente sul fiume Tanaro verso le grotte abbiamo simulato invece un intervento di soccorso fluviale con le nostre associazioni del Vallo di Viano modulo SAF che hanno quindi effettuato un'attività di recupero di ferito in acqua con gommoni, le loro attività, le loro attrezzature e hanno recuperato il ferito. A Vallo della Lucania l'appuntamento con le buone pratiche di protezione civile è per il 14 e il 15 ottobre in piazza Vittorio Emanuele. Ai cittadini verrà distribuito materiale informativo su terremoto e maremoto e sulle misure da adottare per ridurre tali rischi.